Sono quelle cose che ti danno fiducia a andare avanti, a cercare di trovare, di definire la verità. Arrivare al processo con la solidarietà è molto meglio che arrivarci così da solo, aspettando in ansia le sentenze. Bruno Rossi combatte da quasi dieci anni per la morte della figlia Martina, la ventenne precipitata dal sesto piano di un hotel di Palma di Mallorca all'alba del 3 agosto 2011, mentre era in vacanza con delle amiche. Una battaglia personale portata avanti con tenacia assieme alla moglie Franca, ma che adesso è diventata una lotta collettiva. Sono infatti già 80.000 le firme raccolte per sostenere questa battaglia, una petizione indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere verità e giustizia. 80.000 persone che pensano a questa cosa e che non fanno solo un click, ma ragionano, diciamo che sono la stessa. Ecco, niente, mi dà fiducia per arrivare adesso a quella sentenza il 21 di gennaio. Per la morte di Martina nel dicembre 2018 erano stati condannati a sei anni due giovani aretini, Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni, tre per la morte come conseguenza di altro reato e tre per la tentata violenza sessuale di gruppo. Per gli inquirenti la giovane, infatti, sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad uno stupro. Sentenza poi ribaltata in appello. Il primo reato è stato già prescritto, mentre pende ancora in Cassazione il terzo grado. L'udienza è stata fissata per il prossimo 21 gennaio. Ad oggi, si legge nella petizione, dopo dieci anni per la giustizia italiana, la morte di questa giovane non ha colpevoli e il processo è a rischio prescrizione. Si chiede così che l'udienza in Cassazione prevista per il prossimo gennaio possa svolgersi regolarmente senza ulteriori possibili rinvii che causerebbero la caduta in prescrizione anche del secondo capo di imputazione o in alternativa che venga congelata la prescrizione sino alla data nella quale tale processo potrà essere svolto. Cosa vi aspettate dalla Cassazione? Una sentenza, diciamo così, che possa ripristinare la verità in un modo o nell'altro, che ti possa aiutare a trovare percorsi, diciamo così, verso la verità.